Dopo il pari di Fossombrone, l'Avezzano trova la prima vittoria del 2024 e resta agganciata alle posizioni alte di classifica. Ma andiamo con ordine, al De Marsi arriva il Monte Rotondo che vuole togliersi dalla zona calda. In attesa di Tunkara, mister Ferazzoli, quest'oggi fuori per squalifica e sostituito dal vice Fiorillo, ritrova Onazzi per la panchina. Ma deve rinunciare ancora a Ferrani nel reparto arretrato e a Forte che alla vigila sembrava recuperato. Davanti spazio a Roberti, supportato da De Silvestro e Senesi. Fischia Andrea Mazzer di Conegliano, non prima di aver sistemato una delle reti. L'avvio è frizzante, con un'occasione per parte. Dopo appena un giro di lancette, gli ospiti sono pericolosi, con un colpo di testa al lato di Manca, sull'ottimo cross dalla destra di Gianni. L'Avezzano non ci sta e risponde al secondo minuto. Verna si coordina dal limite, ma il pallone sfiora il palo alla destra di Simeonato. Ed è proprio un errore di valutazione dell'estremo ospite a svoltare la gara. Al nono Senesi dalla sinistra, Pennella, a metà strada tra portiere e linea difensiva. De Silvestro si inserisce con i tempi giusti. Anticipa Simeonato e deposita in rete. Al quarto d'ora torna a farsi vedere il Monte Rotondo, con un'ottima trama, che favorisce il tentativo di Milani, che finisce ad un soffio dal palo lontano. L'attaccante Laziale si riscatta al ventitresimo, quando sbuca sugli sviluppi di un calcio di punizione di Napoleoni e insacca alle spalle di Cultraro, punendo un atteggiamento troppo passivo della retroguardia bianco-verde. I lupi marsicani non mollano e tornano all'attacco. Costruzione meravigliosa con l'onnipresente Verna, che scambia con Roberti e prova il diagonale. Sul secondo palo arriva Senesi, che a porta sguarnita non può far altro che riportare l'Avezzano avanti. Ci si diverte al De Marsi. Al trentaduesimo e al trentaquattresimo il protagonista è Cultraro, che veste i panni del supereroe, prima intercettando una conclusione di Gianni indirizzata all'incrocio, e poi rispondendo con i piedi ad una deviazione sottoporta. Sull'altro versante Senesi appoggia per De Silvestro, che non riesce a trovare il giro giusto. Al trentasettesimo Malvessuto prova ad impenserire Cultraro, che blocca senza troppi problemi, mandando l'Avezzano a riposo in vantaggio. Le immagini di mano il centurame ci portano alla ripresa. I bianco-verdi soffrono fino al quarto d'ora, quando De Lorenzo, da distanza siderale, fa partire un tiro potente e preciso, che con l'aiuto della traversa varca la linea di porta, facendo esplodere un De Marsi, intimorito dalla costante, ma va a una pressione avversaria. Il Monterotondo subisce il colpo e al ventiduesimo Verna penetra in area di rigore. Lascia lì per Mascella, che non fallisce il rigore in movimento. L'Avezzano di Laga, al venticinquesimo Nazzi, fa un grandissimo lavoro nel recupero palla e lancia Senesi, che parte sul filo del fuorigioco. Il numero dieci batte Simionato in uscita e festeggia la doppietta personale, prima di lasciare il campo a Raffaele Ortolini, che ha l'occasione per timbrare il cartellino, ma spara alto dopo un'ottima discesa di Giacalone sulla destra. Il Monterotondo prova comunque a ridurre il passivo pesante, con uno squillo di compagnone al trentasettesimo. Il numero diciotto si coordina al volo, ma manda alto. Stessa sorte tocca al tentativo di Squersanti, poco prima del recupero. Nel primo minuto aggiuntivo ancora un'incursione di Verna, che serve il neo entrato Bolò, che stoppa, mira e calcia, chiudendo la gara sul 6-1. Al triplice fischio l'Avezzano festeggia con la curva e continua a sognare, in attesa del big match di domenica a Riviera delle Palme.